LinkedIn non funziona, LinkedIn con me non dà risultati. Lo hai mai pensato? Beh, non ti preoccupare. Mi capita di parlare con professionisti e imprenditori che si lamentano del marketing digitale che non va, non funziona e si aspettano che io abbia una ricetta magica per risolvere i loro problemi. Incontro imprenditori e manager che si lamentano, devo dire, un po' per tutto quello che secondo loro non funziona, dal sito web alla pubblicità su Facebook, ma in particolare accade che mi parlino spesso e si lamentino di LinkedIn. LinkedIn non funziona, io ho fatto persino un corso di due giornate, ma non è accaduto nulla, zero clienti. Zero clienti, boh. Cerchiamo di capire per l'ennesima volta insieme il perché. Benvenuti su Merita, io sono Giorgio Minguzzi e lavoro con le aziende che vogliono avere risultati dal marketing, sfruttare a fondo il CRM e generare nuove opportunità da affidare alla propria forza vendite. Credo che quello che gli imprenditori e i professionisti facciano fatica a comprendere è che oggi il loro mestiere è anche quello di comunicare. Tutti i lavori oggi hanno necessità di comunicare, è come se il lavoro di tanti avesse un pezzo in più, perché se non sai raccontare cosa fai, semplicemente esci dal radar dei clienti. È tutto qui. Questa cosa, ad esempio, l'hanno capita velocemente molti ristoratori. Se vogliono riempire i loro locali, hanno imparato a fare fotografie bellissime ai loro piatti e hanno investito in attrezzatura e informazione per fotografare le loro prelibatezze. Vent'anni fa chi faceva il ristoratore si intendeva forse di fotografie e di hashtag? No, nemmeno di recensioni su TripAdvisor. Ma oggi, se vuole continuare ad avere un locale pieno, è necessario che comprenda i meccanismi che conducono a un bello scatto. Quelli dietro WhatsApp e quelli che si nascondono dietro tanti altri strumenti che prima si potevano tranquillamente ignorare o che nemmeno esistevano. Magari non è nemmeno lui concretamente che fa le singole attività, ma se non le conoscesse e se non le comprendesse a fondo, non sarebbe in grado nemmeno di delegarle con efficienza. Perciò ha scelto di imparare una parte nuova del suo mestiere. Pensate, persino chi si occupa di beneficenza, quindi niente a che fare con di no profit puro, mentre prima non ha mai avuto bisogno di comunicare e raccontare le opere di carità che faceva, oggi, se non le fa conoscere, se non fa vedere come vengono spese le donazioni, rischia di non avere nemmeno più volontari, perché le persone preferiscono avvicinarsi a realtà che vedono online e con le quali possono più facilmente identificarsi. Quindi oggi, se non comunichi, perdi di rilevanza, esci dal radar dei clienti, insomma, meno comunichi, meno la tua azienda viene trovata. O se preferisci guardarla da un altro punto di vista, se non comunichi, lasci spazio ai concorrenti affinché possano conoscere meglio i tuoi clienti. Insomma, anche agli imprenditori è richiesta una estensione delle competenze, pena l'irrilevanza. Quindi questi sono temi molto più seri di quello che si possa credere ed è giusto interrogarsi quando non si hanno i risultati. Appunto, tornando a LinkedIn, i motivi dietro alla mancanza di risultati, perché se non funziona ci sarà sicuramente un motivo, beh, sono tantissimi. Quelli che vedo però di più sono tre. Il primo è che LinkedIn non funziona perché non si fa nulla. Il primo è davvero il più semplice da capire. Ci si iscrive ad un corso, ma non si passa mai all'azione. Dopo due giornate di cose imparate nuove, belle, cioè si esce gasatissimi, ma poi il massimo che si investe sulla piattaforma sono 5 minuti e 5 di orologio per dare una sistemata, una pittata al profilo. Fine. Si aspetta, si aspetta, si aspetta ancora e ovviamente non capita nulla. Allora ci si lamenta. Bene, questo è anche abbastanza facile da comprendere ed è facile da risolvere. Datevi una mossa, fate qualcosa. Se non fate niente, non arriverà niente. Il secondo motivo è più legato al funzionamento di LinkedIn. LinkedIn non funziona perché non vuoi realmente coltivare delle relazioni sane, bensì sei sulla piattaforma solo per rapinarla di contatti. Il secondo motivo è legato all'illusione che queste attività non siano parte del lavoro, ma siano semplicemente un nice to have, una cosa in più, di cui approfittarsi ovviamente a mani basse, ma in fondo tutto sommato superflua. Quindi siccome non ci si vuole impegnare perché esporsi comporta comunque un rischio, come comporta un rischio il comunicare, si dice qualcosa e ci si posiziona, si cercano delle scorciatoie. Spesso si crede che LinkedIn sia un ruolo in cui, diciamo, si possa fare razzia di potenziali clienti senza alcun desiderio di costruire delle vere relazioni di fiducia. Insomma, un luogo che si frequenta con un atteggiamento rapace, predatorio, di chi è lì solo per prendere quello che gli fa comodo prendere. In questi casi di solito si passa l'azione, certamente meglio di non fare niente, ma in modo completamente sbagliato. Ad esempio si crea un profilo, bellino, tutto curato, e poi si aggiungono indistintamente tutti i nomi che ci passano per la testa. Barack Obama, Bill Gates, Nero Alessandri di Technology, Brunello Cucinelli, Emma Marcegaglia, con l'illusione che queste persone siano lì ad aspettare solo la nostra richiesta di contatto. Anche se siamo su LinkedIn, si tratta sempre di relazioni che vanno coltivate affinché portino dei risultati. Ora, voi come reagireste ad uno che durante un convegno arriva e distribuisce a pioggia il suo biglietto da visita a tutti indistintamente e poi scappa via? In un'azienda meccanica dove ho fatto consulenza, veniva, pensate, addirittura fornita una lista di keyword, no? E veniva dato loro il compito, dato ai dipendenti, il compito di aggiungere indistintamente tutti quelli che riuscivano. Poi con un software si succhiavano in un Excel tutte le email e si iniziava a spammare. Le persone inviavano richieste di contatto a Rafica, clic 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 clic, più veloci di un ninja, e si aspettavano che arrivassero ordini a nastro. Ovviamente non capitava nulla. Volete un altro esempio? Beh, un imprenditore bolognese mi ha contattato qualche mese fa su LinkedIn con un messaggio del tipo, ciao, non ci conosciamo, ma ho notato il tuo profilo e poi ve lo potete immaginare. Peccato che io lo conosca da almeno sei anni. Ma non l'ho incontrato solo una volta, l'ho incontrato a fiere, convegni, sono stato anche a due eventi organizzati dalla sua azienda. Possibile che in sei anni non mi abbia giunto sul CRM o su LinkedIn e abbia fatto questo approccio con un bot automatizzato, selezionando semplicemente tutta la mia provincia e andando a spammare? Alla provocazione, perché chiaramente ho messaggiato un messaggio pungente, l'imprenditore si è molto irritato e mi ha risposto che quell'attività aveva generato tanti incontri con persone interessanti fino ad ora. Ora, sarà, ma vorrei conoscere tutte ste persone interessanti che non vedono l'ora di essere prese nella rete con la pesca a strascico. Il terzo motivo che rende sterile la presenza su LinkedIn è la mancanza di pazienza e di costanza. Ho pubblicato un post per un mese tutti i giorni e nessun nuovo cliente, mi disse qualche tempo fa un direttore commerciale ad un evento. Quando guardiamo la storia che però ci ha legato ai nostri migliori clienti, raramente troviamo rapporti di fiducia nati in un lampo, giusto? Bene, su LinkedIn vince la pazienza, come nella vendita vince chi sa ascoltare i clienti. È fondamentale quindi pubblicare tanto e bene, magari ne parleremo un'altra volta, ma è anche importante ascoltare. L'obiettivo che mi pongo quando cerco di costruire rapporti su LinkedIn non è aggiungere persone a nastro, bensì aiutare rispondendo a delle domande, supportare congratulandomi sinceramente per i risultati che raggiungono le persone, gratificare commentando quando i manager pubblicano un post in cui hanno messo particolare impegno, e così via. Su LinkedIn, come nella vita, ricordatevi che ripaga la generosità e non le scorciatoie. Però qualcuno mi potrebbe dire, ma ci sono persone che non pubblicano nulla, molti non pubblicano nulla, ma forse commentano. E allora vado a vedere dove hanno commentato e interagisco con i commenti. Se non fanno nemmeno commenti, allora interagisco con i post delle pagine aziendali. Se non c'è niente, non si pone il problema ovviamente. Ma solo poi, solo dopo diverse interazioni, chiedo il contatto. Oppure lo chiedo subito per un motivo preciso e con cognizione di causa. Quando faccio così, a me penso che non sia mai capitato di essere stato rifiutato. Ovviamente esistono ricette che, se seguite, semplificano un minimo la vita a chi dovrebbe imparare sia a pubblicare che ad interagire per ottenere risultati su LinkedIn. Sono tecniche che insegno dei corsi che faccio per riempire il CRM di opportunità grazie al social dei colletti bianchi. Trovate tutte le info nella pagina LinkedIn per le vendite. Questi corsi sono dei percorsi di affiancamento veri e propri che non lasciano solo le persone quando usano il social. Così vengono accompagnate verso i risultati passo passo. Ma, ahimè, sempre più spesso mi accorgo che c'è un fattore che sta a monte di tutti questi approcci sterili a LinkedIn, quelli che vi ho appena elencato, quei tre che vi ho appena elencato. Perché si sa tutto del proprio settore, ma si conoscono poco i propri clienti e poco chiaro quello che si vuole fare con loro. Insomma, interessa solo ricevere il pagamento sull'Iban e basta. Ecco perché le consulenze che ho fatto, quelle che hanno portato i maggiori risultati, sono quelle che sono partite da un'analisi strategica. Chi sono i nostri clienti? Che sfide affrontano? Dove si ritrovano nel digitale? Su LinkedIn? Nei gruppi di LinkedIn? Oppure altrove? Su Reddit? Su un forum vecchio stile? Su Facebook? Di che cosa vogliono parlare? Che paure hanno? Cosa stanno facendo quelli della concorrenza? Ottengono più risultati di noi? Oggi c'è modo di spiare la concorrenza e capire se alcune loro attività funzionano più delle nostre. Certo, ciò che porta frutti costa soldi e fatica, ma tranquilli, eh? Continuate pure ad aspettarvi che arrivino i clienti spontaneamente. Poi non lamentatevi che i concorrenti vi sorpassano da destra. Voi restate fermi al palo e recriminate. C'è la crisi, il mondo è cattivo, il mondo non è più quello di una volta, ok? Beh, non era mia intenzione farvi una ramanzina. Negli appunti ai link e gli strumenti che uso per trovare clienti su LinkedIn li potete trovare al solito posto, su merita.biz barra 299, episodio 299. Direi che è tutto per oggi, io sono Giorgio Minguzzi e questo è Merita. Ciao!